ok qui adesso siamo passati invece alla fase pro in cui con tutto l'abbigliamento tutta caso guanti stivali anzi guanti manco con tutto il resto andiamo ad riprodurre il più fedelmente possibile proprio l'esperienza con la motocicletta con il mototrene quindi qui alla scuola motociclismo avete la possibilità di allenarvi su una moto vera indossando l'abbigliamento tecnico su qualsiasi circuito del mondo venite con me e Grazie a tutti. 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 Al Mugello o in qualsiasi circuito del mondo. Vi aspettiamo. Ciao.